stiamo verificando il numero di soci in regola in ordine alfabetico per un totale di 90 soci testimoni adesso applichiamo la formula per l'estrazione di un numero casuale stato estratto il numero 57 che corrisponde a mattia menchetti testimoni dell'estrazione mirco di febbraio dovico frate laura carranza del laboratorio endix dell'università del molise anna loi